Un rally mille miglia che ha visto protagonista assoluto il meteo e di conseguenza la scelta da parte degli equipaggi delle gomme che sono state la variabile principale per il raggiungimento del risultato migliore. Gara a corta che ha prodotto il secondo posto nella classifica dei conduttori Under 25 da parte di Christopher Lucchesi a bordo della Skoda Fabia Rally. Il giovane driver di Bagni di Lucca, navigato alle note da Titti Ghilardi, aveva l'obiettivo di fare una gara super e possiamo dire che lo ha perfettamente centrato con il successo nella Coppa AC Under 25. Un successo che lo ripaga del lavoro profuso in questi lunghi mesi e che va a premiare anche tutti coloro che gli hanno concesso fiducia permettendogli di essere al via del massimo campionato realistico nazionale. Grande soddisfazione in casa HP Sport per il traguardo raggiunto in un weekend piuttosto complicato per vari motivi ma che alla fine si può definire sicuramente positivo. Del resto questa stagione è servita e servirà a Lucchesi Junior per maturare altra esperienza e arricchire il proprio bagaglio tecnico in vista magari di sfide ben più impegnative nei prossimi anni. Adesso l'attenzione è già rivolta a Rally Due Valli, ultimo appuntamento stagionale del campionato italiano assoluto Rally 2022, in programma il 7 e l'8 ottobre sulle strade di Verona, nel cinquantenario della corsa nata nel lontano 1972. 1972